Serena Vecchio Il quadro, il sogno del mio viaggio, cattura l'essenza della libertà e dell'avventura con una prospettiva unica e coinvolgente. Come se fossimo con una telecamera posizionata sul fianco di un treno in corsa, osserviamo la scena dal punto di vista di chi è immerso nell'esperienza del viaggio. Di fronte a noi, una ragazza si sporge dal finestrino, i capelli scompigliati dal vento, simbolo di una personalità vivace e indipendente. Le sue mani, adornate da anelli e bracciali con cuoricini, raccontano una storia di connessione con il mondo, ma anche di un desiderio profondo di libertà. La pittrice ha una grande abilità nel mettere a fuoco la testa e le mani della ragazza, rendendole il fulcro dell'opera, mentre il treno e i binari si sfumano progressivamente, perdendosi nella lontananza. Questo sapiente uso dello sfocato non solo crea un senso di movimento e dinamismo, ma riflette anche il sogno della protagonista. Una corsa verso l'innoto, verso terre lontane o, forse, verso una libertà che ogni giorno deve conquistare. Quel desiderio di andare oltre, di spingersi al di là dei confini visibili, in un viaggio che è tanto fisico quanto interiore. Il quadro diventa così una metafora visiva della ricerca di se stessi, della voglia di esplorare, non solo nuovi luoghi, ma anche nuove parti del proprio essere.